Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con un altro video, io sono ManuVekingo82 Prendiamo l'azio intorno e facciamo questa gara in Senna Ramps Dock CCC Siamo io, Tommy Macchia, Juve Sted e Harley Andiamo ragazzi Gara bella anche questa Pina di rampe Abbiamo cambiato zentorno per l'occasione E forza, dai partiamo Partiamo subito Non riusciamo a prendere il turbo Prima rampa Ecco, già ci siamo ammazzati Oh mio Dio Oh mio Dio E ci siamo suicidati Non ci voleva proprio Andiamo, tentiamo di recuperare Siamo in seconda posizione E Tommy Macchia primo Andiamolo a prendere Se ne sta già andando Ma lo dobbiamo recuperare per forza Dai 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 Sì, ce la facciamo Siamo passati in prima posizione E adesso tentiamo di rimanerci Eccoci qua Bellissima questa rampa Cerchiamo di atterrare dritti Mica tanto Ma ce la facciamo Prendiamo una rampa malissimo E infatti ci suicidiamo Non ci voleva E no cavolo Zentorno Ho fatto un nuovo colore Zentorno Non mi puoi abbandonare così Andiamo Ecco Terriamo ancora malissimo Eccoci qui Dai che ce la facciamo Dai dai Siamo ancora primi Andiamo, andiamo, andiamo Adesso ci sarà una mega rampa Ce la facciamo No, non ce la facciamo Siamo veramente sfigati Per un metro Non ce l'abbiamo fatta E Tommy passa primo Io passo terzo Non ci voleva Non ci voleva Dai, dai, dai Vediamo Vediamo gente che si ribalta Esce fuori dalle piste Ritorno primo Non so come ho fatto Ma sono primo Andiamo, andiamo Cerchiamo di non ammazzarci Ancora questa rampa Ecco Ecco, stavolta l'abbiamo fatta benissimo Speriamo di atterrare In strada Ecco, lo sapevo Andiamo, andiamo Saluto tutti i miei amici Tutti i membri della crew Soprattutto il mio amico Gozendi14 Iscrivetevi al suo canale Il mio amico SuperFranci Iscrivetevi anche al suo XlikedHD E il mio amico DirtyLove Il suo canale è PippoVaudix Adesso andiamo Cerchiamo di concludere In prima posizione Peccato che siamo Solo in quattro Perché E' veramente bella Questa gara Fare in dieci Ma è mattina E la gente E' ancora addormentata Ecco Cerchiamo di non sbagliare Qui Andiamo, andiamo Ce l'abbiamo quasi fatta ragazzi Saluto anche Razog Che parte insieme a me E come prima Non ce la facciamo Incredibile Facciamo una bella nuotata Nell'acqua Non è possibile ragazzi Non è possibile Sbagliare due rampe su due Dopo vediamo Ce la facciamo Dai 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 Andiamo sulla mia nuova Zintorno Fa la prima vittoria E concludiamo in prima posizione Bella Ce l'abbiamo fatta Guardiamo gli altri amici Cosa fanno Secondo è Juve Stet Guardiamo lui Vi ricordo il mio canale Io mi chiamo The King of Kings Iscrivete The King of Kings Gare malate E mi trovate subito Iscrivetevi Che qua si registra Ecco la gara sta finendo Hanno finito tutti Tranne Tommy Dai Tommy E ormai non ce la fai No no Sei troppo indietro Ecco Arrivato primo In 6 minuti e 20 Ci prendiamo un bel 9000 soldi E quasi 3000 RP Ok ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Se volete commentare Commentate pure Da Manu Viking è tutto Ciao E al prossimo video Ciao